bella a tutti fourniters benvenuti su leontube in questo video andiamo a farvi vedere quello che vi abbiamo spiegato poco fa quindi noi non siamo ancora attivi nella crew siamo a giugno oggi è il 2 giugno chiaramente entra nella crew di fortnite bonus singolo di 950 vedete il v-back perché non hai ricevuto il pass battaglia tramite la crew quindi questi 950 mi spettano già i mille me li danno e il prossimo pass battaglia sarà incluso quindi vedete io 1300 v-back alla fine all'inizio della stagione 3 io avrò il pass battaglia attivo e avrò in questo mio conto 3250 v-back con il pass attivo ok io lo vado a fare ecco qua vediamo qui sto andando ad acquistare il pacchetto valido per un mese periodo di validità con opzione di rinnovo automatico in un passaggio successivo della procedura di pagamento potrai decidere di attivare il rinnovo automatico dell'abbonamento una volta attivato il rinnovo automatico avverrà lo scadere del periodo di validità in corso il rinnovo automatico di questo prodotto è basato su una data per maggiori informazioni ok quindi io questo diciamo non lo metterò l'automatico 15 almeno 1500 v-back ha il valore di 1500 v-back ok è un po qua ok va bene andiamo a far l'acquisto ecco qui vedete abbiamo la possibilità di selezionare il rinnovo automatico noi non lo mettiamo può interrompere comunque il rinnovo automatico nel nintendo e shop in qualsiasi momento fino a 48 ore prima della fine del periodo di validità in quel momento decorrente quindi se lo lasciate attivo magari lo mettete l'ho attivato automaticamente perché vi va potete disdirlo fino a 48 ore prima del rinnovo ok andiamo avanti addirittura qui sulla nintendo switch vedete se abbiamo dei punti possiamo scalare quindi in questo caso vado a risparmiare anche un euro quindi dovrei pagare 1099 quindi 11 euro ma andiamo avanti eccolo lo vediamo servono 10 euro 99 quindi 11 euro andiamo a terminare il pagamento ok eccola qua l'abbiamo presa l'acquisto di fortnite per un mese quindi andiamo a vedere la facendo l'acquisto in corso eccoli qua 950 vbac andiamo a riscattarla questo dovrebbe essere il rimborso dei 950 ed ecco qua gli altri 1000 andiamo a vedere i premi eccoli comandante attacco mega mega da battaglia leggendario rinato fa parte del set collisione pronti tutti per l'evento di sabato sera dorso decorativo la copertura e eccolo qua pass battaglia capitano 3 stagione 2 e 1000 vbac ora dovremo vedere se come era scritto lì è completo tanto vedete fino a un mese ok ora dobbiamo vedere dobbiamo vedere se ci verrà dato anche il pass battaglia della stagione 3 questo lo scopriremo nei prossimi giorni dal 5 di giugno ok con questo video è tutto ci salutiamo mi raccomando condividetelo con i vostri amici nei vostri social mettete un bel mi piace se ancora non l'avete fatto e viva iscrivetevi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti